Radio Radicale, siamo con Massimo Pitonci, sottosegretario al Made in Italy e alle imprese, per parlare con lui del DDL sulla concorrenza, del quale si è parlato tanto, forse un po' a sproposito per la questione dei buoni pasto, che è una cosa importante, ma non proprio centrale del provvedimento. Allora, noi siamo abituati a vedere periodicamente approvati questi provvedimenti sulla concorrenza che cercano di cambiare alcuni aspetti della nostra vita economica e nel rapporto anche con la pubblica amministrazione. In questo provvedimento cosa c'è? Vedo che lei ha qui un foglio molto corposo, pieno di appunti, delle cose che ha detto in aula. Sono gli appunti in risposta agli interventi ovviamente dei parlamentari, perché è giusto prendersi nota e poi rispondere puntualmente alle osservazioni dei parlamentari. Innanzitutto ho ricordato che questo governo ogni anno porta in commissione, in aula, il disegno di legge sulla concorrenza e così anche il prossimo anno, anticipando che quest'anno dovevamo, in accordo con la Commissione europea, a discutere il tema delle gare, del settore delle autostrade e una piccola parte, quindi limitato la parte relativa al commercio, alle assicurazioni. Mentre il prossimo anno il disegno di legge sulla concorrenza sarà molto incentrato sulla riforma delle professioni, tutte le professioni, ho ricordato che soprattutto al nostro Ministero abbiamo circa 400 associazioni di professioni non ordinistiche e quindi sono tutte le nuove professioni e sono tantissime, è un mondo incredibile di consulenti. l'altro giorno abbiamo anche ottenuto il nuovo codice ATECO per gli influencer, cioè quelli che lavorano, cioè cercando di regolamentare tutta una serie di attività, quindi il prossimo anno ci sarà molto su concorrenza di questo per tutte le professioni non ordinistiche. Quest'anno il tema, maggior parte del provvedimento, come dicevo, è andato sul tema delle gare e era un'indicazione di carattere europeo e dopo ci siamo soffermati su alcune tematiche, una su temi assicurativi, il tema delle scatole nere, quindi la portabilità delle scatole nere, perché c'era un problema nel senso che c'era una limitazione nel passaggio da una compagnia all'altra quando si aveva la scatola nera rispetto a un'altra compagnia. Invece è giusto che i dati e la scatola nera possa passare anche, quindi il consumatore ha il vantaggio di poter aderire ad un altro piano tarifario, però è chiaro che un rimborso delle spese per la scatola nera e i dati e quindi la norma regolamenta questo blocco che c'era. Poi sempre in tema assicurativo, sempre a vantaggio dei consumatori, questo preventivatore per quanto riguarda le polizze catastrofali, che non sono obbligatorie per privati, sono consigliate. Su questo c'è stata una polemica dopo le alluvioni. Molto consigliate, ovviamente chi può, chi ha una nuova abitazione, parta già con l'idea di fare anche la catastrofale, così insomma riesce anche a scontare magari delle tariffe che sono ancora sopportabili e quindi il preventivatore serve, gestito da IVAS, servirà per mettere a confronto, a confronto quindi le varie polizze, le varie tariffe, in modo che ci sia una scelta di carattere consapevole. Dopo abbiamo trattato il tema dei vulnerabili in commissione, importante, quindi il tema delle bollette e dell'energia, con la possibilità fino al prossimo anno di passare al regime delle tutele graduali. Questo sappiamo già che è un vantaggio per una fitta di popolazione. Voi insieme a Gus Beralia avete fatto una grossa battaglia su questo. Certo, perché insomma è chiaro che adesso c'è vantaggio per le famiglie di passare per passare a tutele graduali, con la possibilità poi anche di ritornare indietro, quindi non è che questa è stata una polemica che c'è stata in commissione, nel senso che se dovesse essere più conveniente, tornare conveniente il tema dei vulnerabili, potranno tornare comunque nel regime e quindi sempre a favore del consumatore. Poi il tema dei deors, anche qui ho cercato di spiegare come l'Italia è una nazione turistica di città d'arte, quindi il tema dei deors è estremamente delicato. C'è stata questa polemica sulla proroga, c'è la proroga, però anche una legge delega, nel senso che ci sarà un decreto attuativo che dovrà tener conto però dei comuni, dei vincoli di carattere storico, di carattere ambientale, di carattere archeologico e penso che sia la strada migliore questa, quella di trattare successivamente, perché c'è ovviamente posizione e posizione, tenendo conto che la nostra però è una realtà turistica dove la somministrazione di alimenti e bevande fa parte dell'essere Italia e quindi del fatto che gli stranieri vengono in Italia anche per questo. Il fatto di somministrarla all'esterno magari dei locali è ovviamente un vantaggio per chi somministra, ma è anche un piacere per chi ovviamente visita le nostre città, quindi bisogna contemperare un po' anche queste esigenze. Quindi un po' i temi fondamentali sono questi, direi anche il tema startup, anche questo è fondamentale, nel senso che ho annunciato che presenteremo a breve, invece i relatori presenteranno un emendamento alla parte relativa alle startup innovative. Nella DDL concorrenza o nella legge di bilancio? Nell'IDL concorrenza. No, perché se ne è discusso di startup anche. Sì, nel DDL concorrenza, quindi verrà tolta quella limitazione che c'era del capitale sociale dei 20 mila euro entro il secondo anno, cioè nel senso che questa norma non deve limitare ovviamente l'apertura di nuove attività innovative, soprattutto startup innovative per i giovani. Ci sono dei vincoli però, nel senso che il vincolo è legato al fatto che l'attività di consulenza non può essere trattata come una startup innovativa, siccome ci sono realtà di questo tipo, se tu fai consulente non sei una startup innovativa, quindi mette anche un po' di ordine e con questo emendamento cercheremo di eliminare questo problema della soglia. Poi lo sportello unico attività produttiva, è una cosa che seguo da parecchi mesi, l'Italia è un po' macchia di leopardo sulle attività produttive, c'è una buona parte d'Italia che si appoggia alle camere di commercio e infocamere, quindi è tutto in linea con il sistema infocamere e quindi delle imprese. Ci sono altre zone invece o che non sono servite o che utilizzano altri sistemi informatici. La norma che vi abbia servito è attuativa, nel senso dice comune se non hai lo sportello unico attività produttiva e non hai informatizzato o vai verso un sistema magari di carattere regionale oppure vai sulle camere di commercio visto che è utilizzato la maggior parte dei comuni. Io sarei perché è logico che l'interesse per le imprese è quello di avere un sistema unico nazionale, cioè un albo unico, un sistema unico nazionale per lo sportello unico attività produttiva, perché Infocamere fa questo da sempre e tra l'altro è una società di carattere pubblico. L'ultimo argomento che ho trattato è quello relativo ai buoni pasto. Non è dispiaciuto che tra tutte le cose che ci sono in questo provvedimento si sia parlato soprattutto di questo? Certo riguarda una platea di lavoratori grossa ovviamente, però insomma va dato anche onore al merito del… Sì, nel senso che noi… vi ho enumerato una serie di provvedimenti che sono a tutela delle famiglie dei consumatori, dai vulnerabili al preventivasse, alle assicurazioni, cioè nel senso che il tema dei consumatori è pregnante nell'IDL concorrenza. Poi si va sempre magari a parlare dei buoni pasto, però anche qui ho spiegato che non è una limitazione della concorrenza, il fatto di aver messo un tetto del 5%, ma è una limitazione alla troppa redditività che c'era nel settore da parte di chi emette i buoni pasto. Nel senso che comunque mettere un tetto del 5% che è in linea e ci hanno chiesto perché il 5%, perché è quella percentuale che è prevista anche per i contratti con la pubblica amministrazione, quindi è assolutamente in linea con la PA. Ed è per cercare di limitare un settore dove c'erano delle percentuali estremamente elevate e quindi anche questo è a vantaggio del lavoratore. Ecco, mi spiega bene questo 5% che cos'è? È la commissione massima che può essere applicata dal gestore del sistema dei buoni pasto, che è o elettronico, o cartaceo, insomma o elettronico per la maggior parte, nei confronti dell'impresa. Ecco, e quindi poi a cascata ha anche un vantaggio anche per il lavoratore. Mercoledì si ritorna in aula dopo questa discussione generale, su cui lei è stato molto corretto, ha risposto, ha fatto delle osservazioni, non sempre tutti i sottosegretari, i viceministri lo fanno. È una questione di correttezza nei confronti di chi è venuto stamattina in aula. Sì, sì, ma siccome non lo fanno tutti, onora al merito. Io mi sono appuntato le osservazioni, alcune mi sembravano un po' troppo demagogiche, per cui ho lasciato stare, e invece su quelle più puntuali, sul testo, invece ho cercato di rispondere. Bene, grazie al sottosegretario, al Mimit, Massimo Bitonci della Lega, con cui abbiamo parlato del DDL sulla concorrenza per quest'anno. Grazie. Grazie, buon lunedì.